In questo libro racconto quattro grandi rivolte popolari del Medioevo, quattro grandi rivolte popolari che si sono verificate a pochissima distanza di tempo l'una dall'altra in tutta Europa. La Jacquerie, la grande rivolta delle campagne francesi del 1358, e poi la grande rivolta degli operai di Firenze, i Ciompi, 1378, e poi la grande rivolta, sono tutte grandi rivolte, sì, sono grandi rivolte, la grande rivolta delle campagne inglesi, 1381, vedete come sono ravvicinate, e poi una piccola rivolta, piccola perché si è verificata in un territorio molto limitato, però di straordinario interesse, la rivolta dei Tuchini nel Canavese, in un fazzoletto di terra del Piemonte, piccola geograficamente, ma questa è durata parecchi anni, fra i 1385 e il 90. Quattro rivolte che con grande sorpresa degli storici si sono verificate in modo così ravvicinato per l'appunto, e quindi ovviamente noi ci siamo chiesti da sempre ma cosa succedeva di particolare in quel momento per scatenare tutte queste ribellioni fra i poveri, fra la gente comune. Ecco, per molto tempo la storiografia borghese ha detto vabbè ma cosa volete che sia, il 300 è un'epoca di pestilenze, di carestie, questi che si ribellavano dei poveracci che crepavano di fame, cosa volete che avessero in testa, se non saccheggiare, rubare? Poi più le studiamo e più ci accorgiamo che invece non è così. Queste rivolte non sono rivolte soltanto di poveracci, coinvolgono intere comunità, anche quelli che stanno bene si muovono. E queste rivolte non scoppiano in momenti in cui c'è miseria, non scoppiano negli anni in cui il raccolto è cattivo, scoppiano nei momenti in cui invece al contrario la gente si è abituata a star bene, anche i poveri si sono abituati a star bene, il grande progresso medievale ha migliorato il tenore di vita di tutti. E allora quello di cui ti accorgi è che appunto i poveri non si ribellano quando crepano di fame, ma si ribellano quando riescono a intravedere un futuro migliore.